Il neossessore regionale all'istruzione Cristina Grieco è all'Elba in qualità di presidente di commissione presso l'ITC Cerboni. L'occasione ci ha dato la possibilità di avere un primo approccio con la dottoressa Grieco, che già conosce la situazione non proprio brillante dell'edilizia scolastica elbana. Qual è la prima impressione sull'edilizia scolastica dell'Elba che da diversi anni versa in condizioni non propriamente ottimali? Allora, dunque, da dirigente scolastico chiaramente le scuole dell'Elba le conosco abbastanza bene, non è il primo anno che faccio esami di Stato. Ci sono situazioni diverse, nel senso che ci sono scuole come questa che hanno delle strutture adeguate, ci sono scuole su cui invece ci sarebbe bisogno di intervenire in maniera importante, perché sono in sedi, in palazzi vecchi e non adeguati all'esigenza di un ambiente di apprendimento moderno. Da diversi anni si parla della possibilità di utilizzare l'ex scuola della Guardia di Finanza, però se ne parla solamente. Lei si è già fatto un'idea in proposito, ha avuto già modo di dare uno sguardo alla documentazione progressa che esiste su questo problema, oppure comunque ha già un'idea di come poter fare? No, idee non ne ho. Il Presidente Rossi sta ancora perfezionando le deleghe, anzi credo che abbia fatto la conferenza stampa proprio una mezz'oretta fa, quindi insomma intanto aspettiamo le deleghe. Ripeto, io le conoscenze che ho delle strutture delle scuole dell'Elba sono conoscenze da dirigente scolastico, quindi diciamo in un ruolo di utente delle strutture. Adesso vedremo, insomma è veramente tutto ancora da vedere, da costruire, da capire. Per quello che riguarda i trasporti, i ragazzi convergono a Portoferraio da tutti i paesi dell'isola e molto spesso sono a disagio, tornano a casa tardi o se perdono il pullman la mattina non arrivano a scuola. Lei pensa che si possa fare un qualcosa per ottimizzare la frequenza delle corse? Ma anche qui credo che sia una priorità, no? Perché insomma garantire il diritto di studio a tutti, un diritto di studio vero e concreto, chiaramente sarà la priorità dell'assessorato e della Giunta. Anche qui è tutto da vedere e da capire. Insomma la mia nomina deve ancora essere perfezionata, però chiaramente io essendo una donna di scuola, io sono nella scuola da tantissimi anni, cercherò appunto come priorità di darmi proprio questo, insomma di rendere, dare il mio contributo per scuole sicure e per un'effettiva possibilità da parte di tutti gli studenti di usufruire di ambienti di apprendimento che siano consoni alle loro esigenze. Questo senz'altro, il mio impegno sarà totale.